Uno dei tanti segnali della portata dell'emergenza coronavirus è come si è toccato il mondo dello sport, dorato, patinato e colmo nell'immaginario collettivo di eroi quasi intoccabili. Ed invece non ci sono distinzioni. La pandemia, come ieri l'ha definita l'OMS, tocca i massimi livelli, come la nostra Serie A o la NBA negli States. Il mondo del calcio è stato scosso dalla positività del difensore della Juventus, Daniele Rugani, che nel post pubblicato la scorsa notte, poche ore dopo la comunicazione ufficiale del club, nel rassicurare sulle sue condizioni, ha rimarcato proprio quel concetto. Il virus non fa distinzioni, può colpire tutti e per questo bisogna rispettare le regole che ci siamo dati per superare il momento. Dopo lo scontro diretto di domenica scorsa, ora due delle squadre più tifate d'Italia, Juventus e Inter, sono in quarantena, in attesa di svolgere gli esami per verificare se vi è stato contagio verso altri calciatori, con le incognite che crescono sul prosieguo della stagione calcistica nazionale e internazionale. Nella notte anche la NBA ha pagato il suo dazio con la positività del pivot francese degli Utah Jazz, Rudy Gobert. La Lega professionistica, che già stava ipotizzando di chiudere la regular season a porte chiuse, ha disposto la sospensione delle partite di campionato fino a prossima comunicazione, un altro terremoto sportivo. In ambito locale non sono mancati in questi giorni appelli a seguire le prescrizioni dei DPCM firmati dal Premier Conte con l'invito a restare a casa. Campagna nella quale si è distinta la Pescara Calcio anche con la protesta delle mascherine di domenica scorsa a Benevento. Sempre sui social il club Biancazzurro rilancia e prova a dare sollievo ai propri tifosi con l'iniziativa che ha come frontman il team manager Andrea Gessa. Ciao ragazzi, inizio la mia video challenge della Pescara Calcio. Minimo 15 palleggi all'interno della tua cameretta. I migliori o i più bravi, ma anche i più simpatici, saranno premiati con un video personalizzato dai ragazzi della prima squadra. Stiamo a casa! Gli allenamenti in casa Pescara riprenderanno lunedì 16 marzo. Quelli del Teramo in Serie C non prima del 20 marzo, nel rispetto dell'accordo raggiunto tra Lega Pro e Asso Calciatori. I biancorossi di Dimascio potranno tornare ad allenarsi da sabato 21 e un appello arriva anche dal capitano biancorosso Andrea Arrigoni. Ciao ragazzi, anche io e i miei compagni restiamo a casa. Mi raccomando, è molto importante seguire tutte le indicazioni che ci hanno fornito. Andrà tutto bene e presto torneremo tutti insieme al Bonolis. Un abbraccio. La LND aveva disposto la sospensione di tutte le attività fino al 3 aprile, prima ancora delle misure imposte dai DPCM. Anche dalle squadre di Serie D della nostra regione, costanti gli appelli a restare a casa, con una voce particolare, quella di uno dei giocatori più rappresentativi del Girone F, il sindaco Marco Sanzovini, bomber del notaresco e idolo di tanti tifosi del Pescara. Ciao a tutti. Un momento è difficile per tutti quanti, quindi facciamo affinamento al nostro senso di responsabilità. Stiamo a casa per noi, per i nostri familiari e per l'intera comunità. Grazie. Grazie.